Un muratore. Un muratore. Bella, fra. E il tuo è? Mia madre cucina in una scuola. La cuoca, io! E... Suo marito ha un'azienda sua. È un imprenditore, bella! Posso dire una cosa? Alicia, io ti adoro, sei in assoluto il mio mito. Ti piace Alicia? Amanda no! Amanda, anche tu sei splendida. Sto mettendo! Ragazzi, che cosa ci cantate? Hope di Twista e Faith Evans, ma con un tasto rappato diverso, perché l'ho scritto io. E di cosa parla? È contro il bullismo, perché... Il bullismo? Sì, è un argomento che sento molto. Ho cominciato a fare il rap perché alle elementari me la sono vista brutta per via del bullismo. Per un genitore è terribile vedere il proprio figlio che soffre, perché è costretto a subire delle prepotenze. È dura, durissima. Quando ero proprio giudicata, scrivevo i testi delle canzoni. Mi aiutava a esprimere quello che provavo. Devo dire che Londri è stato bravissimo. In pratica ha affrontato quei ragazzini e ha risolto tutto. Grazie. Non vedo l'ora. Adesso ho cambiato scuola e mi trovo molto meglio. A me piace la scuola. Davvero, è una bomba. Sono fiera di lui. Molto fiera. Tutti iniziali. Ci siamo capiti fin dall'inizio. È stata una simpatia immediata. Non me l'aspettavo. Siamo fratelli. La musica lo fa sentire più forte. Se non fosse per il rap non sarebbe così sicuro, così espansivo. La musica lo aiuta molto. Vogliamo che la gente senta, che ascolti la nostra musica e i nostri testi. Ok, buona fortuna. Grazie. Grazie. Oh no. Ok, ok. Here we go. Oh no. Please help me, God. I feel so alone. I'm just a kid. How can I take it on my own? I pray to let me tease me a writing this song. Trying to fit in my due. Sì 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 Sì